Salve, sono Giancarlo Damigella, autore del libro Vivere a Vela, edizione frangente. Sono qui sulla mia barca, dove vivo, per parlarvi brevemente di questo mio libro, che è un libro che sa di mare, di vele, di vento. È un libro in cui racconto alcune delle mie esperienze di vita sul mare, e non solo. Un libro in cui racconto di traversate oceani, di quando navigavo solo con bussole a sé stante, del giro del mondo, e dei tanti sogni realizzati che ho sempre cercato di condividere con i miei equipaggi nelle lunghe navigazioni, con le pescevoli crociere ai Caraibi, in Polinesia, alle Fiji, alle Vavao, in Thailandia. Racconto anche di bambini a bordo, che se la mia barca erano sempre i benvenuti. Vivere a Vela è per me una filosofia di vita, in cui si parte, si arriva, e come diceva Montessier, tornare è come non essere mai partiti, e io aggiungo, ripartire è come non essere mai tornati, e non si sa quando, e forse se, il viaggio avrà mai fine. Grazie, buon vento, e buona lettura di Vivere a Vela. Grazie. 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 Grazie.